...diocchiato, sapete il sacro, no? Con le corna caprine, le zampe di capri, il corpo umano, che trova nella foresta un flauto magico. Un flauto magico che suona musiche melodiose. Allora lui, si va andando, ci so suonare bellissimo, tanto da sfidare Polo. Polo è il Dio che prego della musica, delle arti. Infatti si vede questo Polo, che si ferma e dice, cosa succede? Ho scompigliato il proprio trappeggio viola, vede che Marsia raccoglie il clauso. Qui sopra si vede Marsia che suona, Apollo lì che ascolta con la sua cetra, Apollo che schede, ascolta con la sua musica, e dietro Marsia si vede Re Mida, Re che è un re leggendario, che viene preso in molti miti classici. Qui si vede la scena di cui Apollo, dopo aver suonato, viene coronato dall'ordine, ha vinto la sfida, e Marsia lì che dice, vabbè, ho perso. Però c'è un problema. I due sfidanti, prima di farla sfida, poi sono scommessa, ti perdeva e ti mettava servo dall'albero. E lì sopra si vede Apollo, che dice, va bene, tu Marsia sei il mio selvo, servo, e lui scortica per punizione, Marsia, Apollo, lega Marsia un albero, e lo scortica, e poi lì si vede la moglie e il figlio di Marsia, che supplicano Apollo, che intanto se la ride, e ecco lo scortica Marsia. e poi...